È importante come lo è la col Vicenza, forse ancora di più col Vicenza, quindi il nostro riferimento non è sicuramente le altre squadre, non possiamo permettercelo, quindi il nostro riferimento siamo noi stessi. Perugia non può essere per me una partita normale, però credo che mai come in questo caso non diventa normale nel senso che non è riferimento all'avversario che ovviamente c'è, Perugia è, non è stata, è casa mia, è una mia storia professionale. Una chiave c'è sempre per tutte le situazioni, anche quelle che come oggi ci sembrano veramente non impossibili ma difficilmente da risolvere e spero di avere la capacità e la fortuna di trovare questa chiave per poter riaccedere un entusiasmo che è inutile negarlo, non dico non c'è più, è lontano anni luce.